Sono Zibaldo, l'unica app completa di tanti servizi di pagamento. Scaricami, sono gratis. Zibaldo, come me non c'è nessuno. Il weekend in zona arancione, con la chiusura di bar, locali e ristoranti, ha contribuito a ridurre nel centro storico di Pesaro il rischio di assembramenti, come invece era accaduto nel precedente fine settimana, l'ultimo in zona gialla, tanto che le forze dell'ordine avevano elevato 63 verbali. Nelle principali vie del passeggio pesarese, sabato pomeriggio, la situazione si è mantenuta sotto controllo. Qualche segnalazione alle forze dell'ordine è arrivata invece per assembramenti di alcuni gruppi di giovani nelle zone del mare, tra Viale Trieste e Via Sauro. Tra le misure adottate, la proroga anche in questo weekend dell'ordinanza che istituisce, dalle 15 alle 20, il Senso Unico in Via Branca, Via Rossini, Corso 11 Settembre, Via Zongo e Toschi Mosca. La polizia locale, in caso di troppo afflusso, indirizza le persone verso percorsi alternativi. Dalla prefettura è stata inoltre rinnovata la raccomandazione ai cittadini in considerazione dell'incremento del numero dei contagi anche nella provincia pesarese di osservare scrupolosamente tutte le misure e le precauzioni di prevenzione contro la diffusione dell'epidemia. Intanto ci sono state proteste per gli assembramenti in occasione dello screening con i tamponi rapidi agli studenti e insegnanti delle scuole superiori. Screening organizzato in un solo pomeriggio e in un'unica sede. Il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Nicola Baiocchi, attacca il sindaco Ricci affermando che non si può pensare di mettere a rischio una città perché si rincorre la voglia di emergere politicamente. Ora la sfida non è fare tamponi ai ragazzi, non perché non sia importante, ha continuato Baiocchi, ma perché l'obiettivo principale è vaccinare il prima possibile tutte le persone più fragili ed esposte e poi tutta la popolazione.